Puoi vincere pass battaglia, skin, ricariche, partecipare a tutti i giorni ai server privati con premi? E' gratis, premendo qui iscriviti, attivando la campanellina, mettendo su tutte. Ricordo di lasciare subito un bel mi piace, iscrivervi al canale, supportatevi nel negozio oggetti, la G1-Gabri-L-YT, grazie a tutti quanti. Bella a tutti ragazzi, oggi andiamo a riscattare il nuovo piccone. Che cosa dovete fare? Andate sul sito che vi ho messo in descrizione e poi dovete premere su JForce Now. Dopo si aprirà questa pagina, non avete l'account, dovete crearvelo, fate accedi. Ti crei un account su JForce, metti la tua pass e la tua email, qua accedi e entri qua su JForce Now. Scorri e troverai Fortnite, premi su Fortnite e andrai a premere gioca. Premendo gioca ti dirà, vabbè, adesso io non ho fatto il login, fai registrati subito se non hai un account già oppure accedi. Ti chiederà dopo di collegare anche il tuo account Epic a JForce Now, poi potrai giocare a Fortnite e basta fare una partita sola e vi daranno il piccone gratis. Il piccone verrà dato dall'11 agosto. Ragazzuoli, per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella a tutti! Grazie a tutti!